E dicendo sostanzialmente, Giulia Monastera, benvenuta, che le ragazze che finiscono in certe situazioni hanno una parte di responsabilità. Voglio fare una premessa, tanto per cominciare io sono totalmente contraria allo stupro. Insomma questo mi sembra il minimo, non perdiamo tempo a dire cose che sperano sulle quali. Però, meglio dirlo perché c'è chi... Insomma, ecco. No, sono totalmente contraria. Mi sembra scontata, dai. Allora, quello che voglio dire io è il fatto che si deve... Ha fatto molto discutere. Guardi, io in parte la penso come lei, quindi penso che se uno va in certi luoghi deve sapere che può succedere. Però... Io vorrei porre l'accento sul tema della droga, nel senso che non può passare in sordina, non può essere semplicemente dire ma c'era della droga alla festa. La droga purtroppo è un fortissimo disinibente sociale e purtroppo creando le ragazze, assolutamente non si devono aspettare lo stupro, ma creando le ragazze purtroppo una percezione alterata della realtà e questo è molto importante. Soprattutto se consideriamo il cocktail... Sì, però lei quando dice certe ragazze che vanno, e tu scrivi, certe ragazze che vanno in certi luoghi, va in una posizione ovviamente diversa da quella che ha detto la dottoressa Andreoli, per esempio. Assolutamente. Che la scorsa settimana diceva, beh, c'è un rischio che una ragazza giovane... Settimane fa ha detto che sarei andata anch'io a 18 anni in una festa con la vista Duomo su Milano. Secondo me... Lo ridico. Io non sono minimamente d'accordo. Perfetto, non ci saremmo incontrate lì, però quello che lei ha scritto è molto pericoloso, le dico il motivo. Perché se posso permettermi, lei parla per opinione personale. Io parlo anche perché studio medicina. Ok, allora però deve studiare un po' meglio, le spiego il motivo. No, poi le spiego io che cos'è, magari la via del circuito del piacere. Va bene, parli pure lei. No, però scusate, adesso non voglio fare un ascolto. No, perché mi devi studiare un po' meglio, le dico il motivo. Allora però, dottoressa Andrea...